Dai, continuiamo ad esplorare qualche comodità che ci offre la libreria Colformat, che ci fa capire come sia immediatamente e a costo zero più smart nei confronti di particolari tipi di dato. Ad esempio con i numeri. Questo ciclo stampa sulla stessa riga il quadrato e il cubo della I, da 1 a 19. Date un'occhiata il risultato. Vi sembra il solito con il Cout? Non penso perché ci siamo sempre un po' dati da fare per ottenere, come è qui, un corretto allineamento di valori numerici. E Format li tratta di default come tali. Ecco, con un confronto. Abbiamo dovuto però introdurre la IOMA NIP per impostare facilmente l'ampiezza di stampa. Ho anche aggiunto questo righello per valutare se l'impaginazione è stata davvero rispettata. L'output è identico, una riga col Format e una riga con la IOMA NIP. È evidente come sia un po' più compatta la forma che utilizza Format e lo diventerebbe ad occhio sempre di più, perché mentre qua dovremmo combinare una serie di 7W e altri indicatori per ottenere il risultato voluto, qui sarebbe sufficiente aggiungere qualche cosina ad ogni segnaposto. Inoltre, parafrasando un po' dal mondo web, il Format mi dà l'idea di aver separato la presentazione dai contenuti, un po' come si può fare ora con i CSS, a differenza di quando dovevamo stilizzare in line, per forza, la parte HTML. Qua invece abbiamo un mix che più si complica il Format disderato e a occhio diventerà meno leggibile. E comunque, per i tipi numerici l'allineamento è automaticamente a destra, con il Format intendo, mentre per le stringhe a sinistra. Ma è un attimo, ho lasciato soltanto la parte col Format, altrimenti poi diventa confuso con la stampa intercalata delle due modalità. Aggiungere qui un minore all'inizio della parte degli specificatori, per ottenere un allineamento a sinistra. Beh, col maggiore avremmo l'allineamento a destra, che però è quello di default, ma abbiamo anche una terza possibilità, cioè di centrare nello spazio assegnato in quei 10 caratteri il numero, o la stringa, con l'accento circonflesso. Tutto è centrato rispetto alla posizione 5. Non manca la possibilità di scegliere un formato esdecimale, ottale, binario, poi vi rimando alla tabellina completa. Ecco, non è super intuitivo, e ho tentato di imbroccare così a buon senso il formato, ma ho sbagliato diverse volte. Il cancelletto va sempre per primo, e se poi c'è uno specificatore di ampiezza, quello segue il cancelletto, e infine X. Se la X è piccola, le lettere esdecimali saranno tali, diversamente saranno in maiuscolo, mettendo la X grande. Magari potremmo provare qui. A sinistra le lettere sono minuscole, a destra sono maiuscole. Non manca neanche supporto per il padding. Ho aggiunto questo 0, che diventa il carattere di padding da usare nella stampa della prima colonna del formato in esdecimale, e ho aggiunto anche un terzo placeholder, dove questo ciao sarà stampato su dieci colonne allineato a sinistra, e usando l'asterisco come carattere di padding, di riempimento. E questo è il risultato. Chiaro che l'ottimale sarebbe stato stampare una stringa sempre diversa, come lunghezza invece di ciao, ma oggi sono un po' pigro. Adesso non avrei intenzione di platinare, come si dice per i giochi, l'intero set degli specificatori possibili. Andate a questo indirizzo, cercate la particolarità che fa il caso vostro. Vi consiglio di saltare subito comunque a questa, che poi è semplicemente più sotto, pagina in dettaglio, dove troverete anche diversi esempi. Apprezzabile il supporto anche per formattare i tipi di dato temporale, come restituiti dai vari metodi nell'ebrea crono. Aggiungiamo l'ora il suo include per una prova rapida. Ricaviamo dall'orologio di sistema l'orario corrente e stampiamolo in modo formattato, aggiungendo questi specificatori che raggiungono l'obiettivo in modo decisamente intuitivo. La data c'è, l'orario in realtà è piegato da non aver gestito il fuso orario. E passiamo al format to, che permette di veicolare la stringa che con il format sarebbe costruita, pagando un certo prezzo in termini di performance, invece direttamente, senza creazione della stringa, in un file stream, ad esempio, o comunque una destinazione che supporti un iteratore. Il format to lo utilizzerà per veicolare un char alla volta la stringa in questo stream. Vado a verificare dopo l'esecuzione che sia stato creato davvero il file con quel contenuto. Eccolo qui. In chiusura voglio almeno accennare a come sfruttare questo meccanismo del format con i tipi definiti a noi, con le nostre classi, le nostre struct. Qua l'ho provato con una classe cliente, adesso ve la mostro, semplicissima, giusto un costruttore e una ragione sociale, che vorrei far stampare quando passo al format un oggetto di tipo cliente. Mi aspetto poi di vedere restituito in stampa ancora questo FKMU, però la differenza sostanziale è che qui posso facilmente formattarlo in tutti i modi che abbiamo visto poter fare con i tipi standard. Ad esempio così, su 30 colonne, centrato e con carattere trattino che fa da filler. Ecco il risultato. Questa è la classe cliente, semplicissima come dicevo, la ragione sociale, costruttore, getter per la ragione sociale. Notate questo const che garantisce come richiesto che il metodo richiamato poi dal formatter non vada a fare modifiche sullo stato interno della classe stessa, che è la strat che si fa specializzare sul nostro tipo cliente e per non scriverci noi da zero tutti i metodi necessari, ci appoggiamo di fatto per semplificare un pochino alla classe formatte standard per le stringhe. Deriviamo da quella insomma. E si va a ridefinire proprio il metodo format rendendolo capace di consumare un oggetto di tipo cliente. Dove questo format context non riesco a approfondire più di tanto è comunque il contesto come suggerisce l'identificatore in cui sta avvenendo la formattazione cioè i parametri che vengono ricevuti e poi passati per definire il risultato della formattazione stessa. La parte che dovete curare è chiaramente questa dove potete personalizzare ciò che otterrete in output. Ad esempio potrei decidere di voler racchiudere tra una doppia vendesiquadra a cui poi sarà aggiunta la formattazione prevista come prima i trattini l'ampiezza e otterrei appunto questo e qui siete liberi di inventarvi il mondo. E alcuni tra voi anch'io inizialmente è un po' che non lavoro col C++ e probabilmente questa parte sarebbe capita meglio dopo quella che riguarda le novità anche sui template richiamando magari qualcosa anche del pregresso si erano domandati che cosa sia questo template vuoto. rappresenta l'ultimo step di specializzazione dei template partendo dalla struct formatter andiamo a dare un'occhiata sul spp reference e qui abbiamo la conferma che il formatter è basato su un template doppio con la specifica di questa classe T per noi sarebbe cliente e questo charti notate di default equivale a char. per i tipi predefiniti abbiamo dei formatter pronti all'uso non ci sorprende e notate che quando nella specializzazione si vanno a specificare tutti e due i tipi si va a consumare questa coppia a esaurirla in un certo senso e allora la sintassi prevede che si specifichi appunto un template con le parentesi angolari vuote. in realtà sta facendo qui la stessa cosa sfruttando il tipo template di default char cioè non l'abbiamo specificato ma avremmo potuto così e non cambierebbe nulla eseguendo otterremo ancora lo stesso risultato e allora anche qui dobbiamo chiarire che abbiamo consumato tutti i template previsti e lo stiamo facendo sfruttando quello di default direi che può bastare a risentirci nel prossimo video approccerò una nuova caratteristica